Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni, in un'intervista da Gorà, dice Io non accetto lezioni da Ellie Schlein. L'Italia cresce più del resto d'Europa. Beh, ha ragione. Come fai ad accettare lezioni da un politico che parla per slogan? Sono sempre le stesse frasi che ripete da un anno e mezzo. Io vorrei vedere l'agenda della Schlein. Vorrei vedere dove ha scritte queste... credo che siano massimo una quindicina di frasi che lei ripete sempre, no? La Meloni è una donna che non fa niente e la Premier donna che non fa niente per le donne. Questa è una delle frasi che ripete sempre, no? Il premierato vuole dare pieni poteri. Ripete sempre le stesse... ma con le stesse parole identiche. Quindi prendere lezioni da una che ha 15 frasi standard che ripete ogni volta come fai a prendere lezioni. Cioè, se tu parli con la Schlein di un argomento e lei non ha una di queste frasi da utilizzare la mandi in tilt. Perché se tu parli, per esempio, di crescita dell'Italia, di PIL probabilmente lei su questo ha una o nessuna frase. Quindi non saprebbe come rispondere alla Meloni. Come può dare lezioni alla Meloni o a chiunque di economia, di PIL, di crescita. Non ha, diciamo, non ha le conoscenze, credo io. Mi pare di aver capito che lei non ha le conoscenze per poter affrontare la gran parte dei discorsi. Quindi le affronta con quelle 15 frasi che ha, utilizza queste frasi, ma cosa c'entra? Beh, deve dire qualcosa, no? Bene. L'Italia cresce più del resto d'Europa. Dice, anche i rapporti con Mattarella sono ottimi. E una vittoria alle europee sarebbe confermare i voti di Fratelli d'Italia alle politiche. Cioè, prendere il 26%, la Meloni sarebbe più che soddisfatta aver confermato l'elettorato che l'ha votata un anno e mezzo fa. E dice proprio chiaramente, da Schlein, non accetto lezioni, con il mio governo e record di risorse per la sanità. Una vittoria sarebbe confermare i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi. Allora, quando la Meloni dice che i soldi sulla sanità sono un record, è vero o non è vero? È vero. Questo ve l'ho sempre detto. Quest'anno non ci sono mai stati così tanti euro sulla sanità. Qual è il punto? Che l'Italia, avendo pochi soldi, c'è stato l'aumento dei soldi sulla sanità. Portano a un totale. Non mi ricordo se quanto è. 123-126 miliardi. Solo che l'inflazione che c'è stata si è mangiato il potere di acquisto di questi soldi. Quindi è vero che quest'anno c'è il record di euro sulla sanità, ma questi soldi che ci sono sulla sanità valgono meno dell'anno scorso perché l'inflazione si è mangiata. Vi faccio un esempio. Voi guadagnate 1000 euro e avete un aumento di 25 euro. Dite, non ho mai preso uno stipendio così alto. Avevo 1000 euro, non sono mai arrivato a prendere 1000 e 25 euro quest'anno è il record per il mio stipendio. Però l'inflazione, l'anno passato, è stato del 5%. Quindi vuol dire che l'inflazione si è mangiata 50 euro dei vostri 1000. Il vostro stipendio di 1000 euro diventava un valore d'acquisto di 950 euro. Quindi quei 25 euro che voi prendete in più non sono sufficienti a recuperare quello che si è mangiato l'inflazione. Quindi voi prendete 1025, ma in realtà è come se aveste in tasca 975, perché 50 euro l'inflazione se l'è mangiata. Cosa vuol dire? Che con il vostro stipendio comprate cose in meno, meno alimenti, meno scarpe, meno vestiti per 50 euro, ma avete un aumento di 25. Quindi è vero quando la Meloni dice che c'è il record di soldi sulla sanità, ma quei soldi sulla sanità quest'anno valgono meno con tutto l'aumento dell'anno precedente. Credo che di averlo spiegato bene, giusto? Ecco, ve l'ho spiegato con termini anche abbastanza semplici, credo che tutti possano aver capito questa diatriba tra la Schlein che dice avete tagliato la sanità e la Meloni che dice record della sanità. Il record della sanità c'è, è stata tagliata la sanità, non è stata tagliata, è che l'inflazione si è mangiata più soldi di quello che è l'aumento. Quindi sì c'è un record, non ci sono stati tagli, ma quei soldi valgono meno. Forse, secondo me, la Meloni non è che ha messo tutti i soldi che doveva mettere perché chissà per quale motivo, perché non ci sono. Quindi una delle cose principali da fare è soprattutto spendere meglio i soldi che ci sono senza buttarli dalla finestra. Questa è una mia idea, però dal dire al fare c'è di mezzo la sanità. Cioè dire di spendere meglio è una frase detta così, poi dimmi come spendi meno. Ci vorrebbe una spending review, ci vorrebbero delle persone che in ogni ospedale stiano lì davvero a risparmiare. Adesso cambio tipo di cartigenica, risparmio 50 centesimi ogni 10 ro. Ci vorrebbe un sistema per riuscire ad abbassare che è più facile dirlo che farlo. Bene. Dice i rapporti col Quirinale. Dice la Meloni sono ottimi. Ringrazio il Presidente della Repubblica perché non fa mancare mai il suo sostegno, non tanto al Governo, ma alla Nazione. È un rapporto che gestiamo direttamente e personalmente. Quelli che brigano per comprometterlo, temo che resteranno delusi. La sinistra si è indignata perché ho detto che le tasse non sono una cosa bellissima. ma lo confermo e non accetto come ho sentito la leader del PD dire che la sanità è bellissima che si paga con le tasse. Sono d'accordo ma le lezioni anche no perché è stato questo Governo a portare il Fondo Sanitario al suo massimo storico. Quindi questa dichiarazione della Schlein me l'ero persa che ha detto che la sanità è bellissima che si paga con le tasse. quindi la Schlein ha fatto un'allusione. Tu dici che non è bellissimo pagare le tasse ma guarda che le tasse servono per pagare la bellissima sanità. Ma la Meloni non ha detto non pagate le tasse. Ha detto che pagare le tasse non è proprio una cosa bellissima. Anch'io l'altro giorno ho pagato le tasse ma non è che ho detto e vai oggi è il giorno che si pagano le tasse adesso festeggiamo vado a comprare una torta. Pago le tasse ma non dico che è una cosa bellissima. Le pago perché le pago. C'è chi non le ha mai pagate chi ha il post rotto da dieci anni chi non sa chi non conosce l'IVA. Un anno fa mi ricordo di aver chiesto una fattura ho comprato una cosa su ebay e ho chiesto a chi me l'ha venduta la fattura visto che è un'azienda e mi ha risposto scusi non riesco a capire che cosa intenda per fattura che cos'è la fattura sembrava naturalmente mi stava prendendo in giro sembrava una candid camera scusi non riesco a capire perché che cosa sarebbe la fattura non l'ho mai sentita nominare sembrava di sentir crozza nelle sue imitazioni grazie a tutti arrivederci a presto grazie a tutti